Carpenteria Metallica Centese, azienda leader nella lavorazione del metallo. Lavori di carpenteria metallica, taglio a laser, piegatura, funzionatura e roditura in CNC. Con la massima precisione e qualità. Tanto lavoro ma anche tanta passione. Via Nazario Sauro numero 3, telefono 051 683 5851. Impresa Merighi Cento, opere d'urbanizzazione, asfalti e pavimentazioni in autobloccanti, impianti fognari e depurazioni acque. Via Stradellazzo numero 3, telefono 051 683 6103. Merighi, tanta passione per il lavoro sempre a canestro. Studio Fava, commercialisti e avvocati. Acento, in via della Canapa 54. Service importante per il Lions Club di Cento che ha tenuto l'altra sera un Inter Club insieme a Leo Club Cento e Rotary Club Cento. Sulla questione della leadership, progetto portato nelle scuole. Cento, 2 giugno 2018, di Marco Rabone per TC Cento Web TV. Si è parlato di leadership in un incontro promosso dal Lions Club di Cento, Presidente Corrado Martin, dal Rotary Club e dal Neo Club di Cento, quest'ultima Presidente Stefania Sasso. Stefania Sasso da un po' di tempo porta nelle scuole il messaggio della leadership per spiegare ai ragazzi che stanno guardando al mondo del lavoro cosa significa essere un leader nel proprio campo d'azione. Alla serata hanno preso parte il giornalista Alberto Lazzarini del Rotary Club di Cento, il Presidente del Rotarac Fulvio Vallarini e il Vice Presidente del Rotary Club di Cento, Durim Cinnacu. Uno ad uno hanno salutato i tanti ospiti riuniti per l'occasione nella bella sala Guercino dell'Hotel Europa di Cento. E quest'ultimo, Durim Cinnacu, incalzato dalle domande del giornalista Alberto Lazzarini, ha raccontato la sua esperienza da ragazzo 15enne immigrante dall'Albania, come si può notare dalla foto portata a testimonianza. Durim tra centinaia di migranti cerchiato in rosso. Un'intervista da cui abbiamo tratto degli spunti utilizzati nella nostra esclusiva chiacchierata a cura di Marco Rabboni con Cinnacu. Siamo qui all'Hotel Europa al termine di una convention tra Rotary Club e Lions Club. Si è parlato di imprese, si è parlato di leadership con gli imprenditori locali, specialmente con la relazione stata tenuta da Durim, un imprenditore di Cento, che ha iniziato proprio dalla gavetta con i pantaloncini corti e adesso è arrivato a condurre una importante azienda per il trattamento. Fare l'imprenditore oggi, come sempre, è stato molto difficile. Per quanto riguarda il settore della manutenzione degli impianti, il settore è soggetto a un asprimento della normativa notevole, per cui le piccole realtà, piuttosto che gli artigiani singoli, non sono più nella condizione di poter far bene questo tipo di attività. Di qui nasce la necessità di fare un'azienda strutturata e per poter mettere in piedi un'azienda strutturata si richiedono investimenti, si richiede professionalità, si richiede formazione e il mio progetto è conseguire questo tipo di risultato. L'imprenditoria locale è divisa in due gruppi, ci sono degli imprenditori che hanno una visione di lungo periodo, che hanno dei progetti che stanno riuscendo, stanno crescendo e ci sono molti imprenditori purtroppo che hanno una visione molto ridimensionata. Ovviamente sappiamo benissimo che in una realtà come questa la pressione fiscale è quella che è e quando un'azienda rimane aperta soltanto perché non può chiudere, perché non riesce a pagare i debiti, quella è un'azienda che non ha futuro. Alcuni imprenditori fanno parte a questa categoria purtroppo. Ecco, Murta Tecnologie per il clima, poi c'è un nuovo progetto molto più ampio, ce ne vuoi accennare a questo progetto che l'azienda sta portando avanti in questo momento? Allora, il progetto è iniziato con la Murta Tecnologie che nell'area centese era molto conosciuto ed è tuttora molto conosciuto, ma come dicevo prima, purtroppo questo tipo di attività non è più sostenibile dalla piccola realtà, per cui la Murta Tecnologie è entrata a far parte di un progetto molto importante. Adesso il progetto si chiama Gruppo Clima che racchiude all'interno di se stesso diverse realtà come la Murta e offre il suo servizio nel territorio di Bologna, Modena e Ferrara, facendo in questa maniera può, riesce tutt'oggi, a dare al cliente un'utilità elevata con dei prezzi accettabili dal mercato. Bene, ringraziamo tanto la tua disponibilità, buon lavoro perché visto che la carne al fuoco ce n'è tanta. Grazie a voi, buon lavoro e buona serata. Non potevamo non ascoltare Alberto Lazzarini, uno dei giornalisti locali, con alle spalle un'esperienza invidiabile nel Consiglio nazionale della categoria da alcuni decenni, ricoprendo il ruolo di Presidente della Commissione Cultura. Sì, ma io partirei proprio dall'intervista a Durim Cinnacu, che è un esempio, un grande esempio di imprenditore e soprattutto ha una storia alle spalle incredibile. e quindi a 15 anni era sulla famosa nave che i più anziani forse ricorderanno che approdò a Brindisi dall'Albania, lui era ed è albanese appunto, e poi dopo ha fatto tutta una carriera di studi e poi dopo ha diventato un imprenditore. Ecco però alla base di tutto questo ci sta le capacità certamente di questa persona e ci sta anche una volontà da parte di alcune persone che lo hanno incontrato in questo cammino di essere inclusive, di essere capaci di dargli gli strumenti per una vita che sarebbe e avrebbe potuto diventare importante, cosa che poi è accaduta. Ecco allora in tutto questo Durim Cinnacu è un imprenditore che ha espresso una grande capacità di leadership e la leadership è stato proprio il tema di questo incontro. Leadership, io credo che ci sia una grande bisogno di leadership e di leader e di leadership in questo periodo a tutti i livelli, perché a livello nazionale, internazionale, ma anche naturalmente a livello locale. La verità è che i leader devono esistere in ogni settore, ad ogni livello e per far questo certo per alcuni la capacità è nata ma per altri si può certamente formare un leader. Ecco qui per questo credo che le agenzie formative dalla scuola, ma non solo la scuola, credo debbano ancora fare molto, c'è molto molto da fare perché proprio attraverso la capacità di queste persone che è un mix di competenze e di qualità si riesce a trovare quella strada giusta che anche in termini etici passa attraverso il discernimento che se noi oggi andiamo a guardare è sempre molto più difficile che il grande imprenditore oggi in queste condizioni nasca dal nulla senza una preparazione. Lui ha dietro questa preparazione però, come dicevi giustamente tu, ha dietro quella capacità, quell'intuizione innata propria dei grandi personaggi del centese e non solo del centese e quindi mutuata ai giorni nostri questa capacità ha poi portato dei risultati che sono importanti. L'impresa ha e deve avere sempre anche questo carattere, per far questo occorrono tante condizioni, tante qualità non ultimo il fatto che tutti i dipendenti devono essere inclusi in questo progetto, motivati e tutti quanti devono guardare, devono rimanere da una stessa parte, dalla parte giusta. Bene, grazie dottor Lazzarini per la sua disponibilità e a questo punto buon lavoro visto che anche come giornalista ce n'è tanto da fare in questo periodo. Ce n'è parecchio da fare, questo indubbiamente, ma insomma adesso anche per quanto riguarda i discorsi che ho appena accennato sull'etica e la deontologia, l'ordine sta facendo, credo molto, soprattutto in termini di formazione per i colleghi, però non è il problema. Ricordiamo che fai parte anche del Consiglio Nazionale dei giornalisti. Sì, sì, ma voglio dire che il problema non è solo quello della formazione, ma oggi veramente è molto più grande perché il web ha i problemi che ha, le fake news sono purtroppo all'ordine del giorno. Pensiamo alla scoperta proprio di questi giorni della rete che in termini molto concreti ha condizionato in senso negativo sia le elezioni americane che addirittura il referendum sulla Brexit. Ecco, questo deve fare veramente riflettere perché sono situazioni veramente talmente grandi, altrimenti al di sopra di noi, che condizionano non solo il pensiero e il giudizio delle persone, ma condizionano anche la storia stessa perché fanno cambiare gli eventi del mondo e questo, ripeto, impone una grande riflessione. Chiudiamo con Stefania Sasso, presidente del Club di Cento, lei che ha voluto l'esperienza nelle scuole con una collaborazione ed eccezioni, il noto imprenditore centese, dottor Riccardo Fava, amministratore delegato di Baltur Spa. Sentiamo ora Stefania, quindi noi amici vi salutiamo qui. Un grazie caloroso all'IoS Club per l'attenzione alla nostra testata di informazione. Ciao ciao! Esatto, ho parlato oggi del progetto Leo for Leadership, un progetto che abbiamo portato all'Istituto Bassi Burgatti allo scopo proprio di fornire ai ragazzi degli elementi di leadership, cioè fargli capire cosa vuol dire essere un leader, come si diventa e quali sono le doti fondamentali da sviluppare per poterlo diventare. Ecco Stefania, questo è un percorso che voi come l'IoS Club state percorrendo, è una serie di incontri proprio per parlare ai giovani non solamente di leadership ma anche di impresa. Esattamente, il primo incontro si è tenuto lo scorso 30 gennaio in cui è intervenuto il dottor Fava, quindi un leader famoso sul territorio per parlare proprio ai ragazzi di che cosa vuol dire essere un leader. Abbiamo chiesto a lui di aprire questo ciclo di incontri perché è un ottimo esempio per i ragazzi di un leader già formato, già definito. E poi gli altri incontri saranno invece tenuti da dei ragazzi perché il messaggio che vogliamo far passare è che il leader non è che si nasce ma lo si può diventare con un percorso di crescita personale. Quindi i ragazzi che insegnano ai ragazzi, l'abbiamo capito bene? Esattamente, l'intento è proprio quello, ci siamo messi in gioco noi ragazzi del Leo Club e abbiamo portato la nostra esperienza di leadership nelle scuole sperando di trasmettergli proprio questo messaggio. Stefania, chiudiamo questa bellissima intervista, abbiamo parlato di cose importanti per i giovani, con una curiosità. Noi pensiamo che Leo sia la benedizione di Lions, non è così, vero Stefania? Esattamente, Leo in realtà è un acronimo che significa Leadership Experience Opportunity che è un po' quello che vuol dire essere Leo. Leo significa sviluppare le doti di leader guidando un club, avere l'opportunità di mettersi in gioco quindi di farlo e maturare l'esperienza, tutto questo facendo dei servizi per la comunità. Quindi questo per chiudere Stefania è un messaggio ai giovani che ce la possono fare, basta solamente essere determinati. Esatto, è un messaggio che tutti i ragazzi mettendosi in gioco possono diventare leader e possono farlo seguendo un percorso di crescita personale. Quindi non arrendetevi e andate avanti con i vostri obiettivi. Molto bene Stefania, buon lavoro visto che tu sei molto attiva in questo campo per promuovere le iniziative dell'Aios, no dell'Aios, Leo Club. Esattamente, grazie mille a te Marco.